Attore non professionista, dipendente delle poste, dopo un provino con il regista Renato Castellani, alla ricerca dei protagonisti del film Sotto il Sole di Roma, viene scelto insieme ad altri giovani presi dalla strada, per la parte di Geppa. Sarà poi Vittorio Dessica ad accorgersi di lui per il film Miracolo a Milano, che lo vede protagonista, dopo soli nove film ma abbandona la carriera cinematografica ritirandosi a vita privata. Ha trascorso gli ultimi vent'anni di vita a Velletri, dove ancora oggi vivono i figli Patrizia e Fabrizio, fino alla morte sopraggiunta per cause naturali nel 1991.